Google Shopping per veicolare acquisti. Cioè, alla fine, qual è lo scopo di Google Shopping? Prendere la gente, buttarla sul nostro bel sito e dirgli, hey, amico, compra. Anzi, fra l'altro, novità fresca fresca, in un prossimo futuro si potrà fare le vendite direttamente dalla SERP, ma qui apriremo una parentesi troppo grande, ne parleremo un'altra volta. Che cos'è Google Shopping? È una specie di evoluzione normale ads, solo che qui noi non andiamo a dare le parole chiave, ma Google Ads prende i nostri prodotti dal Merchant Center e da lì deduce, in base al GTIN, ai titoli, a una serie di informazioni, quale sono le ricerche potenzialmente pertinenti con quel prodotto. Da lì si apre poi un mondo di intelligenza artificiale. Appunto per questo, visto che l'intelligenza artificiale non è proprio così intelligente, ma semplicemente elabora un grande volume di dati, fornire i dati giusti, quindi l'importanza dei tracciamenti per influenzare come pensa l'algoritmo.